Ciao a tutti, io sono Edda, blogger e mi carina figurina. Avete già deciso con la decorazione a scegliere per la tavola di Pasqua? Io ci ho già pensato e quest'anno non ci saranno solamente i fiori e uova colorate, ma in ogni piatto smonteranno anche delle bellissime carote colorate. Un simpatico pensiero perfetto per grandi e piccini, perché in ogni carota si nasconde una golosissima sorpresa. Infatti basta sciogliere il nastrino per trovare delle olette di cioccolata, che si sa a Pasqua non possono assolutamente mancare. Quindi proviamo a rieditare una carotina insieme? E allora vi lascio al tutorial. Ciao, buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!